buongiorno a tutti benvenuti al nostro evento evento creato da parte dei giug italiani per i giug italiani partiamo subito dal motivo per cui abbiamo avuto diciamo questa idea e abbiamo deciso di realizzarla durante il periodo del ormai noto kovid abbiamo incominciato ad incontrarci tutti i sabati mattina verso le 10 e 30 per riprendere il nostro pizza bugs and fun però senza la pizza e ognuno a casa propria rispettando ampiamente le distanze lo scopo dell'evento è quello di far conoscere i giug italiani e quindi i appunto i jumla user group italiani e quindi jumla per tutta la community italiana ed eventualmente internazionale e noi siamo veramente molto contenti ed emozionati siamo qui senza alcun scopo di lucro non ognuno ci sta ammettendo le le proprie risorse perdonateci se possiamo commettere qualche errore perché non siamo nemmeno dei registri dei registri provetti ed è anche la prima volta che facciamo una cosa di questo tipo speriamo infatti che di poterle riproporre successivamente creare ulteriori eventi per diciamo in qualche modo affiancare la community italiana e internazionale vorrei subito però partire con alcuni ringraziamenti ringraziamo in particolare nicola valentina giovanni razzo che in questo momento dirige egregiamente la regia alessandro serenella fausto che dirigerà la regia assieme a serenella nel pomeriggio leonardo e in ultimo non assolutamente in ultima posizione il nostro davide del giug di milano che davide ci sei ci sono ci sono buongiorno davide buongiorno davide terrà uno speech tra pochissimo ma ne parleremo tra un attimo davide almeno in questo nostro primo intervento introduttivo si occuperà di tradurre tradurrà anche qualcosa nei vari speech della giornata davide lascio un attimino a te la parola grazie and so thanks and so now we try to translate some word in english for the other guys that will follow us that does not speak italian so we are very happy to stay here and we hope that we do our best to this uh for this event the event started during this last period of the copy the 19 um just uh because we found each order during the uh every saturday at approximately in the morning at uh ten up uh half past ten to start to the pizza bank fun at home so in a full aspect fully of the um of the law to stay safe to stay home but uh we don't lose the the joy to share the j energy and j love and uh so during this event is um started this idea to 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 see why not just discover we uh each other and this event is uh completely free no profit and uh no profit and uh it's just we we have spent the last uh saturday and all our energy in prepare this uh this event we would like also to say thank you to the all the guy that are working on this uh group on this uh project that are um luca and so uh razzo that is following our mainstream now and also leonardo fausto serenella uh giovanni and i hopefully don't forget all the other name because we are doing this in live so please answer it's to you grazie davide grazie ma non perdiamo altro tempo passiamo direttamente a vedere il programma di oggi now don't waste our time and uh let's give a look to the program of the day to the agenda eccoci il sito di ferimento che abbiamo realizzato per questo evento e per quelli successivi che verranno è jugproject.net the website that we have created for the project for this event is jugproject.net and now hence is following you is showing you the agenda il nostro primo speech della giornata alle 9 45 quindi fra pochissimi minuti scopriamo jumla org una panoramica sul sito a cura di davide messia the first speech is a prox a quarter to ten and it will be made by by me it's a discover joomla.org just a quick overview of the journal website made by me successivamente alle 10 e 15 proprio con il nostro primo ospite internazionale carlos camera after quarter to ten we have carlos cam camera that will speak about setting up the virtual drug experience and opportunities it's the first guest that we have from extra italy per proseguire poi alle 10 45 con hans van der meyer che ci parlerà appunto dei jumla user group ma approx after carlos we have also hans van der meyer and they will start at 10 245 and they will start talk about the joomla user group and a personal experience from netherland e quindi ci parlerà di un'esperienza olandese relativa ai jumla user group successivamente abbiamo alcuni ospiti a partire dalle 11 e 15 terremo una tavola rotonda con vari cms wordpress prestashop e ovviamente anche il nostro amato joomla attraer hans at prox at 11 we have a round table where we can discuss with several different cms like wordpress and the prestashop and obviously also joomla questa tavola rotonda proseguirà per diverso tempo e sarà compresa praticamente all'interno della pausa pranzo che terminerà alle 14 e 30 per iniziare poi la sessione pomeridiana we will the round table is not a fixer the time so it will go ahead and after then we'll start the the launch break and we will start again with the afternoon session and at two past past two la sessione pomeridiana inizierà con la presentazione di jumla 4 a cura di nicola galgano the afternoon session will start with the presentation of jumla 4 made by nicola galgano successivamente a partire dalle ore 15 vedremo come effettuare la migrazione da jumla 3.9 alla versione beta di jumla 4 a cura di alessandro lumaca e fausto nancy dalle quindici e trenta le best practice in un sito jumla a cura di roberto marinello successivamente dalle 16 marco biagioni presenterà il componente j sitemap un potente strumento per la appare a cura di gioia di gioia di gioia di marco biagioni dalle 4 e le api the last half past four we have luca razzo racchetti that will discuss about jumla 4 and the api e a fine giornata alle 17 ovviamente ringraziamenti e magari chi lo sa foto di gruppo vedremo che cosa possiamo fare dopo bene io ho terminato scusa davide ti ho tolto la parola prego bene grazie a tutti ricordo un'ultima cosa seguite ovviamente tutto all'interno del nostro canale youtube e per quanto riguarda le eventuali domande che potete volete fare potete fare all'interno dei nostri speech verranno in qualche modo moderate da parte mia e di davide e verranno presentate al relatore nell'ultima parte del nella parte finale appunto del suo intervento se non dovesse esserci il tempo per per rispondere a tutte le domande queste verranno successivamente risposte all'interno dei video che caricheremo nei prossimi giorni all'interno del canale youtube quindi al momento noi andiamo in diretta live streaming questo video ovviamente resterà all'interno del nostro canale ma poi suddivideremo i vari video con a cui sarà possibile poi rispondere successivamente nei giorni a seguire grazie a tutti e buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti the chat you can do your question and if we go we have not enough time to respond to answer to every question we can we will divide the video in several in every task so you can please make your question the commentary on youtube channel and now that's it